Salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Oggi ragazzi un video super eccezionale riguardante Apex Legends e le partite classificate, ovvero le ranked. Oggi ragazzi andate a vedere la mia promozione che ho fatto appunto da Oro 1 a Platino 4. Come sapete ragazzi io gioco ad Apex Legends da non molto tempo e voi ovviamente il video lo state vedendo oggi ma in realtà il Platino l'ho fatto molto tempo prima. Per l'esattezza ho fatto il Platino nel giro di 3 giorni di gameplay su Apex e quindi oggi vi farò vedere questo fantastico gameplay della mia promozione. Quindi ragazzi in prima di iniziare con questo fantastico video vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace a questo video per supportarmi e di seguirmi su tutti i miei profili social o soprattutto Instagram che trovate qui sotto in descrizione. Detto questo ragazzi guardatevi questo fantastico video e buona visione. La vedo hardy mirage da qua è lo stesso Randy prima identico ragazzi per forza dov'esca ecco qua Diamoci una mossa atterriamo qui ricevuto mille metri quindi si può fare ci siamo preparatevi Siamo soli no 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 c'è un team due due andiamo qua vado qua io Carabino e armor viola io Io ancora niente Armored blu e pskipper perfetto Io ragazzi ho un load up Ho un load up che Ma stanno lì eccoli Vado da lui ah Non posso lo peddare però Qua c'è il come si chiama Armored blu C'è uno scudo corporeo livello due Arriva Prendi prendi le voce Ne ho bisogno Siamo messi bene stavolta con le armor eh Ho l'avoc quindi posso Anch'io ho l'avoc Gli sparano? Io R301 e Stiebert con lo pop Stanno fai da eh Andiamo? Andiamo a fare i party raga abbiamo tutto Non possiamo perdercela Ancora non ci siamo accati eh? Qui dentro? No 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 qua davanti qua davanti qua davanti Andiamo da questo punto proprio qui Giochiamocela bene ragazzi Giochiamocela bene Nove Passano qua Passano qua Pathfindus nelle scale Stanno sopra raga Nelle scale Sì nelle scale Pathfinder Eccolo L'ha girato One shot Preso Arriva 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 L'ho rotto 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 Devo oscillare L'ho rotto È one shot Morto 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 Ressalo Oh c'è l'agino Ma ne è uno? Eh sì era uno Sta qui sopra Quanto sei fatato scusa? Si sono confuso Ah rip non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Abita C'è la motura viola raga La motura viola Qui c'è uno scudo corporeo Ma quanto l'ha lasciata? È scarica perché Un attimo la sullo Il palloncino Il palloncino Rosso È rotto Morta mia Ah la safe friga però Finisce la fa Rigo tutto tuo C'è il sentinel questo raga Non lo volete? Volendo io Safe safe Vedi quante Tira l'acqua di Raga Passiamo dal tunnel Vai L'acqua di Ah non mi ha preso il palloncino ma Perché ho preso danni È normale? Eh no No Eh Mi ha fatto scendere da solo Lol Oh c'è 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 raga Sotto il tunnel Sotto il tunnel Attenti raga Non ci sono Mi avete perso questo occhio Quante batterie avete? Io raga Non ho shield Ho solo siringa Io ho Shield Un medikit Punto Sì Ti anima Tre shieldini Tu ho dato Solo questi Bene prendo uno io Grazie Vedo tracce Sì vedelo Uno Petfindus Stanno vedandogli Ancora Prowler E lo si struttura Dove puoi prendere? Però io non ho colpito adarti Stanno là No 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 Gioco il sentinelle rene 99 Sto a posto io Eh no perché poi non avrei il Ah stali fermo E' il cecchino 68 Lascio lascio Io provo a prender Sì prendo Dobbiamo andare Dobbiamo andare Sì sì andiamo Io la carabina senza il Lo pop Sto rosicando Ma c'era L'air drop Dove? No 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 Non era per quella mia Mi sono passata Ma non era per la carabina Proviamo andare a prender lì Troppo regà Proviamo Si puzza Fai un portale Fai un portale Marti Andiamo più avanti però Ma spiegare un po' Tra le per il drop Eh infatti mi preoccupo Ah beh se no la rischio io regà Rischio io provo No 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 Non voglio che muori No 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 Siamo in endgame Sì infatti stanno là Stanno là Stanno là Siamo in endgame Non Ok la sento io Fai un portale Su Marti però Che va su Passata dietro Tipo da qua però Sto creando un tunnel Qua si svolgono intanto Boh vi mostro una spot Il dubbio che odiamo Mi hanno visto eh Venite Sì sì Tipo qua sotto Vedo tracce Ah sì perché sono andata a prendere il drop Spotta spotta No ma qua non c'è nessuno Sono al drop Capito Ah io sto fight Vado Quando Farete il party Raga fermi Sì Cosa? Ma c'è qualcuno dietro Scusatemi Non lo so No raga Ci sono due passi Per forza Sentite qua sotto C'era qualcuno che si è mosso Ve lo assicuro Guardate se ti do Se ti do Se ti do Se ti do Dieci secondi L'anello è vicino Ora è fermo Vai 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 qui sotto Non lo so C'era qualcuno Dalla 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 Falla Sto controllando No Io si do No ma c***o è possibile O stava sopra il tetto Eh sì E infatti Ha il massif Questa raga Armor bianca raga Armor bianca No io voglio il massif Testa di Armor bianca Ve l'ho detto che la voce Tito raga Ma scusami Ma se Ho usato l'abilità Come ha fatto No noxie Dobbiamo andare Oddio Io l'avevo detto che c'erano dei passi raga Inplicemente mi sbaglio Comunque quattro squadre Secondo me qualcuno è da solo È impossibile Dai Sì la safe è minuscola proprio Ma siamo in safe qui no? Sì sì Siamo in safe Tanto questo col crab Era mo' se lo sbatte Tranquillo Oddio Aspetta ricarico Stanno dentro il tunnel Ma è strana sta roba scusatemi Cosa? Dove stanno? Abbiamo la 50 ancora Ricarico C'è stato pronto con la ulti eh Sì sì Si fai da no Eh lascia Lascia Tanto devono uscire Eccoli No No Andiamo dai No no ma devono uscire loro Devono uscire loro Ma non usciamo Ok ok Vado a vedere l'armatura di quello Che armatura oro 81% C'è l'armatura oro? L'ho preso L'ho preso Per lei per lei Vedete Oh 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 Alibada Alibada L'ho rotto L'ho rotto L'ho rotto L'ho rotto L'ho rotto Mi devo cura Mi devo cura Sto ricaricando gli scudi Sto ricaricando Sto ricaricando Attenti al portale Ma stanno qui dietro L'ho rotto 100 100 L'ho rotto con la granata Vabbè regà 97% Devo uscire Facciamo così va Levatevi Levatevi Eccolo Sto ricaricando Ti tengo in odio Ti tengo in odio Adosso Devo di caricare Scid rotto Giocato Nocani Buona Bravi Gire Ecco il mastico Il masticino Dove c***o volevano andare questo Un altro game così Non avevano scelto Sì serve un altro game così Oh No no ho fatto il plat Ho fatto il plat Edz Platino 3 L'ho fatto Ho fatto 201 punti Con questo game Ho fatto platino 3 Edz GG Shot GG ragazzi Plat in 3 days Ho trovato il cibi Nel segreto Fat No 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 Aspetta